Ben ritrovati in diretta con l'informazione di Udinese TV. Ovviamente apriamo con il primo giorno di votazioni per le elezioni del nuovo capo dello Stato, Fumata Nera, proprio alla prima votazione per l'elezione del successore di Mattarella. Ci sono state una pioggia di schede bianche nell'aula di Montecitorio con il Parlamento in seduta comune, come sappiamo integrato dai delegati regionali. I grandi elettori hanno votato nel rispetto delle regole imposte dall'emergenza Covid sei ore per concludere anche lo spoglio. Il quorum richiesto dunque due terzi dei componenti del collegio non è stato raggiunto. I partiti, come detto, hanno scelto in massa la scheda bianca. Al termine dello spoglio nell'aula di Montecitorio sono risultate infatti 672, come scrive l'Ansa. 49 invece le schede nulle. I voti dispersi, riferisce ancora l'Ansa, sono stati pari a 88. In tutti i presenti e i votanti sono stati 976 rispetto ai 1.008 previsti. Tra le preferenze espresse, riferisce ancora l'Ansa, 36 voti sono per esempio andati a Paolo Maddalena, il candidato degli ex Movimento 5 Stelle, mentre 16 a Sergio Mattarella. Tra gli altri, i sette grandi elettori hanno invece scelto Berlusconi, 9 Cartabia, 6 bossi e poi ci sono stati per esempio due voti per Amato, Casellati, Conte e Giorgetti. E non c'è accordo tra le forze politiche che almeno oggi hanno avviato un dialogo, come conferma una nota congiunta Lega PD al termine dell'incontro tra Salvini e Letta. La giornata è ruotata sul nome di Mario Draghi, ma in serata, riferisce ancora l'Ansa, nel centro-destra persistevano le difficoltà su un suo trasferimento al Quirinale. Attivissimo è proprio Matteo Salvini che è impegnato nell'incontrare i leader dei partiti senza soluzioni di continuità. C'è il massimo riservo ovviamente sui risultati di questi colloqui, ma tutti danno per scontato che bisognerà arrivare almeno alla quarta votazione, quando il quorum scenderà alla maggioranza assoluta, per immaginare un esito positivo. Le prossime votazioni sono previste per domani a partire dalle ore 15. Noi sentiamo ora come si è espresso proprio nel telegiornale delle 19, intervistato dal nostro Davide Zanirato, il deputato triestino Ettore Rosato, vicepresidente della Camera e presidente di Italia Viva. Allora quando e come uscirà questo nome che potrebbe mettere d'accordo tutti Rosato? Deve uscire con un'intesa ampia che guardi con chiarezza la necessità da una parte di garantire un presidente della Repubblica all'altezza della sfida che abbiamo, in continuità con il lavoro fatto dal presidente Battarella, quindi con autorevolezza, con capacità, con una sua riconoscibilità nel Paese. Dall'altra parte è necessario uno sforzo anche per tenere unita la maggioranza parlamentare, perché poi questo è indispensabile anche per continuare nell'attività di governo che naturalmente non si ferma dopo l'elezione del Presidente della Repubblica, ma per continuare per i prossimi 14 mesi. Oggi c'è stato nel pomeriggio anche un nuovo incontro tra il leader della Lega Salvini e il leader del PD Letta, due dei partiti di riferimento. Si è riusciti a capire quale potrebbe essere l'intesa? Intanto è positivo che finalmente ci si parli tutti, è bene che Salvini e Letta si parlino, abbiamo dall'inizio detto la necessità che centro-sinistra e centro-destra non mettano venti, ma trovino modalità di incontrarsi. Poi qual sarà il punto di sintesi? Naturalmente è contenuto all'interno delle schede, non quelle che verranno scrutinate stasera, ma quelle che verranno scrutinate giovedì o venerdì. Siamo ancora lontani a giovedì o venerdì e questo indica che siamo ancora lontani alla soluzione, ma io sono ottimista che nelle prossime ore si possa fare un lavoro serio in questa direzione. I rumors che arrivano dalla capitale parlano di convergenze nuovamente sul nome di Mario Draghi, che così lascerebbe libera la casella alla presidenza del Consiglio dei Ministri, in questo caso è spuntato il nome della Belloni. Potrebbe essere una delle soluzioni raggiungibili? Io penso che in questo momento la fantapolitica, nel senso non che siano ipotesi fantascientifiche queste, ma che sia un po' come il fantacalcio, può costruire qualsiasi cosa e ogni ipotesi diventa credibile. Io penso che siamo ancora lontani da una definizione di questo e quindi non mi avventurerei in un'ipotesi di questo tipo. Certo, se il Presidente Draghi va a fare il Presidente della Repubblica, perché i partiti decideranno di eleggere lui, sarà bisogno nello stesso tempo, anzi un secondo prima, definire anche cosa succede sul Governo. Sentiamo anche le parole di Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d'Italia. La Presidente Giorgio Meloni ha dato delle indicazioni, ha cercato di riflettere assieme a noi, sono susseguiti anche degli interventi da parte di senatori, deputati, grandi elettori, rispetto a quello che succederà nei prossimi giorni, è molto probabile, anzi sicuramente oggi avremo una valanga di schede bianche, questo significa che non si è ancora raggiunto né un accordo né un mezzo accordo su un nome in modo forte rispetto al prossimo inquilino del Colle. Fratelli d'Italia ha fatto e sta facendo le sue proposte, tra cui il magistrato Carlo Nordio, un personaggio di illustre fama. Diciamo che la cosa abbastanza, per come la vedo io, abbastanza strana che è successa e che si è celebrata purtroppo nelle ultime ore è evidentemente quando il segretario del Partito Democratico, Letta, ha fermato attraverso un'agenzia qualche ora fa che tutti i nomi del centrodestra faranno la fine anche in modo, voglio dire, abbastanza stilisticamente poco corretto. Sappiamo che in queste ore naturalmente i nomi si rincorrono, molti vengono fatti anche per essere tra virgolette bruciati, quello che sullo sfondo però ritorna preponderante è il nome di Mario Draghi al Quirinale con un'ipotesi poi di Belloni, presidente del Consiglio dei Ministri. Per quanto vi riguarda dunque nessuna preclusione su Draghi, l'ha letto poco fa anche il suo collega Ciriani, capogruppo in Senato? Sì, beh oddio, in questo momento serve però capire quali sono i nomi del centrodestra, nel senso che Mario Draghi è sicuramente un nome altisonante, un'eccellente riserva della politica che oramai riserva non lo è più, però per adesso io le rinnovo, mi concentrerei sui nomi che il centrodestra da qui quantomeno alla terza votazione farà senza scivolare necessariamente in altri nomi. Dunque si vedrà come si procederà, ricordiamo che la seconda votazione dunque avverrà domani a partire dalle 15. Noi proseguiamo e riaggiorniamo ovviamente sulla situazione coronavirus innanzitutto per quanto riguarda l'intero paese, in Italia la curva del virus ha raggiunto il plateau e nei prossimi giorni dovrebbe iniziare a scendere. Il commissario per l'emergenza Covid-19 Francesco Fugliuolo conferma infatti il trend, come scrive l'Ansa, che gli esperti ormai da giorni indicano e le regioni tornano dal canto loro a invocare una revisione delle regole che hanno segnato la vita degli italiani in questi mesi, a partire dalla modifica del sistema dei colori per cominciare a ragionare sull'uscita dall'emergenza. In Italia i dati odierni del Ministero della Salute parlano di quasi 77.700 nuovi contagiati su oltre 519.000 tamponi effettuati per un tasso di positività pari a quasi il 15%. 352 sono i nuovi decessi di persone positive al virus che fanno salire il totale a 143.875. Quasi 2.710.000 invece sono le persone attualmente contagiate. 1.685 di queste si trovano in terapia intensiva e 19.862 sono ricoverate con sintomi negli altri reparti. Il Friuli Venezia Giulia è da oggi in zona arancione, colorazione che prevede ulteriori limitazioni per chi non è in possesso del Green Pass rafforzato, mentre al contrario non sono previsti cambiamenti per chi è vaccinato e guarito dal Covid. Rispetto a ieri nel territorio regionale si contano 2.119 nuovi contagi e mentre sono 9 i nuovi decessi. Si contano oltre 61.000 persone in isolamento. Oggi è stato toccato il record dei pazienti ricoverati in area medica in questa quarta ondata. Vediamo il servizio di Valentina Berzi. In Friuli Venezia Giulia oggi si tocca il record dei pazienti ricoverati nelle mediche in questa quarta ondata. È questo il dato che spicca dai numeri delle ultime 24 ore. Sono 2.119 i contagi registrati, 9 i decessi. Cifre che come di consueto scontano il ridotto numero di tamponi effettuati durante la domenica. Sono invece in crescita i ricoveri, 39 i pazienti in rianimazione mentre sono 464 quelli nelle aree mediche. Un numero fino ad ora mai toccato pericolosamente vicino alla soglia dei 500. Anche in quest'ultima giornata di rilevazioni la fascia più colpita risulta quella dei più giovani, gli under 19 con oltre il 27% dei contagi. A seguire quella tra 40 e 49 anni con il 20%. 9 i morti, la più anziana, una novantenne di Trieste, la più giovane, una concittadina di 71 anni. Oltre 61.600 le persone in isolamento. Dall'inizio della pandemia sono oltre 10 milioni gli italiani contagiati dal Covid. Secondo i dati del Ministero della Salute, infatti, sono 1 su 6. La variante Omicron risulta più trasmissibile della Delta, sebbene determini una carica virale simile, talvolta addirittura inferiore. Inoltre, a 5 giorni dal primo tampone, il 50% dei positivi potrebbe essere ancora contagioso, rendendo di fatto pericoloso l'isolamento breve adottato da paesi come gli Stati Uniti. Lo indica uno studio condotto dalla Harvard di Boston sui tamponi molecolari eseguiti agli atleti dell'NBA. Anche un secondo studio dell'Università di Ginevra evidenzia come non ci siano sostanziali differenze di carica virale tra i vaccinati infettati da Delta e quelli colpiti da Omicron. E con il passaggio in zona arancione del Friuli Venezia Giulia, la Prefettura di Udine intensificherà i controlli per garantire il rispetto delle norme riguardanti soprattutto i non vaccinati. Massima attenzione sarà data alle farmacie. L'intervista al Prefetto Massimo Marchesiello. Da oggi Friuli Venezia Giulia in zona arancione. Le restrizioni riguardano soprattutto i non vaccinati. Avete previsto dei controlli particolari? Verranno sicuramente intensificate. Già abbiamo attivato anche l'altra settimana con le forze di polizia mirati interventi e controlli soprattutto nelle farmacie perché anche lì si è evidenziata una criticità molto particolare. Per quanto riguarda il divieto ai non vaccinati di muoversi da un comune all'altro, anche questo aspetto sarà monitorato? Sì, sarà monitorato sicuramente perché sì, siamo in un momento, ripeto, di particolare riflessione su quello che sta succedendo e quindi l'attenzione deve essere tanta soprattutto in questo momento dove forse riusciamo a scavallare con conseguenze meno importanti però l'attenzione ci deve essere fortissima. Temete ci siano ulteriori episodi di proteste come stanno avvenendo in altre piazze italiane? Al momento non sono segnalate, abbiamo avuto cose molto sporadiche su cui diciamo l'attenzione e in particolare la sorveglianza e la vigilanza è stata forte ma non abbiamo avuto particolari criticità anche in questo fine settimana. Pass senza tampone, indagati tre insegnanti e una farmacista per falso incertificazioni e truffa ai danni dello Stato, questo nell'ambito di un'indagine del NAS dei Carabinieri di Udine. I tre docenti sono accusati infatti di aver ottenuto il Green Pass da tampone, fondamentale per poter entrare in classe senza sottoporsi ad alcuna verifica grazie alla presunta complicità del farmacista. Hanno ottenuto il Green Pass base senza mai aver eseguito il tampone. Nell'ambito delle verifiche sulla regolarità di esecuzione dei test, tre insegnanti operativi in diverse scuole della provincia di Udine e un farmacista di un paese della Carnia sono stati indagati per falso incertificazioni e truffa ai danni dello Stato. Al termine di una prima fase delle indagini, coordinate della Procura della Repubblica di Udine, i NAS hanno dato esecuzione stamattina cinque decreti di perquisizione nei confronti dei quattro. Le perquisizioni hanno riguardato l'attività e l'abitazione del farmacista e le case dei tre insegnanti, una delle quali a Padova. L'indagine, che ha preso il via novembre scorso, ha consentito di appurare che gli insegnanti, con la complicità del farmacista, ottenevano appunto il Green Pass necessario lavorare prima dell'introduzione dell'obbligo vaccinale per il personale della scuola tramite tamponi in realtà mai effettuati. Le indagini proseguono anche su altri filoni. relativi invece alla pratica di confezionare falsi risultati negativi su richiesta, non escluso quindi che vengano alla luce altri casi di persone che si sono avvalse di false certificazioni. Si continua a indagare sulla morte del diciottenne Lorenzo Parelli, avvenuta venerdì all'Auzzacco nell'azienda Burime, che è presenza del tutor, mansioni e dinamica al vaglio della magistratura. Il prefetto di Udine ha annunciato un tavolo sulla sicurezza, al Bearzi intanto a Udine c'è stato il ricordo del ragazzo da parte dei compagni. Noi riascoltiamo tutti gli aggiornamenti in merito alle parole della nostra Valentina Bearzi che si è collegata in diretta proprio nel TG delle 19 dall'esterno della Procura di Udine. Sono davanti alla Procura perché stanno continuando le indagini per capire le ragioni della tragica morte di Lorenzo Parelli. ci sono diversi ambiti ancora da chiarire, la Procura e chi si sta seguendo le indagini si stanno concentrando su perché Lorenzo Parelli stesse effettuando quel tipo di lavorazione, una lavorazione tra l'altro che stava per essere terminata ed era pronta per essere spedita e anche sulla presenza dell'eventuale tutor sul posto di lavoro per seguirlo in quella particolare delicata mansione. Al momento per gli indagati nel registro delle notizie di reato c'è solo un indagato, il titolare dell'azienda, ma non si esclude che possano esserci altri nomi nel giro di qualche giorno. Intanto proprio l'avvocato che difende il titolare della Burimec oggi ha diffuso una nota, ha detto che non ha ancora ricevuto gli atti della Procura di Udine con la fissazione dell'autopsia per la quale comunque nomineranno un perito dedicato alla posizione del mio assistito, ha detto Stefano Buonocore l'avvocato, resta tutta via la stessa, riservo il silenzio nel rispetto del dolore dei familiari. Il ragazzo appunto aveva appena ultimato la lavorazione, si doveva solo procedere con la spedizione, bisogna capire che cosa ha provocato l'improvvisa caduta della putrella di acciaio che ha colpito e ucciso il diciottenne di Castions di strada. E proprio sul tema della sicurezza, sia sui luoghi di lavoro, ma anche in questi percorsi di alternanza lavoro-scuola, si è espresso il prefetto Massimo Marchesiello, che oggi a margine della presentazione degli eventi dedicati alla giornata sulla memoria, ha detto che convocherà presto proprio un tavolo in questo senso per capire con i sindacati, le scuole e le imprese, che cosa si può fare per migliorare la situazione, anche se ha voluto sottolineare la sicurezza per quel che riguarda la nostra regione, le imprese della nostra regione mi sembra già piuttosto alta. Intanto continuano i momenti di cordoglio e di vicinanza alla famiglia di Lorenzo Parelli, oggi gli studenti delle Bearzi sono ritornati a scuola, sono ritornati sui banchi, dopo la fine di questo periodo di stage c'è stato un momento di ricordo di raccoglimento ogni mattina al Bearzi, si comincia la giornata con una preghiera, in questo caso è stata dedicata proprio a Lorenzo, di cui è stata proiettata un'immagine piuttosto grande, grande come una parete in un'aula che ricorda quella di un teatro al Bearzi e i ragazzi, gli studenti hanno effettuato un minuto di raccoglimento e di preghiera, una preghiera che è stata richiesta a tutti gli alunni delle scuole professionali italiane della federazione e delle scuole professionali di cui fa parte anche il Bearzi. Un raccoglimento che è continuato all'interno della classe, dove sul banco del ragazzo di Castions sono stati lasciati dei biglietti e che prosegue anche nella frazione di Morsano con un grande cuore lì stato a lutto per testimoniare anche la vicinanza alla famiglia di Lorenzo Parelli. Si è intanto scatenato un dibattito a livello locale ma anche nazionale sull'opportunità di questa alternanza scuola-lavoro, alcuni hanno chiesto comunque che ci siano maggiori misure di sicurezza e quindi degli accorgimenti, altri hanno voluto comunque sottolineare come la Presidente di Confindustria Udine, Mareschi Danili, l'importanza di questo tipo di progetti che rappresentano un'eccellenza per le scuole e le imprese anche della nostra regione. Ha voluto sottolineare anche come siano solo il 6% circa, fra i 5 e 6% gli incidenti sul luogo di lavoro che afferiscono alle industrie, all'area industriale, questo nel 2021. Proprio a sottolineare come ci sia sempre più bisogno comunque di personale specializzato che si occupi di questo tipo di lavorazioni, personale sempre più difficile da trovare. Sulla stessa linea anche il consigliere comunale Giovanni Govetto che ha la delega alle scuole paritarie e che è stato anche docente all'Ebe Arzi anche in una delle classi di Lorenzo Aparelli. Mi sembra che un punto su cui appunto sia interessante ragionare, sia proprio un ragionamento, è proprio quello di questo tipo di formazione che finora diciamo è rimasta un po' in sordina e che adesso sulla scorta di questo tragico evento qualcuno mette in discussione o su cui comunque si è aperta una discussione e su questo ecco io credo che possa essere un'occasione per rivendicare come è stato fatto da alcuni la ricchezza e l'importanza di questo tipo di formazione che è una formazione che coinvolge un certo tipo di ragazzi spesso come dire anche che non riescono ad essere attratti dai normali corsi di studio, dai normali corsi scolastici e che hanno la possibilità di seguire dei percorsi di studio che appunto accanto alle lezioni in aula permettono anche di svolgere come dire esperienze nelle aziende. Penso che questa sia una cosa molto interessante e la cosa che mi dispiace legata a questa tragedia è che qualcuno in qualche modo subito punta il dito contro questo tipo di esperienze delle aziende. Allora io che opero nel settore e che in qualche modo vedo anche come amministratore come funziona dico questo c'è una grandissima fatica a trovare aziende, a trovare imprenditori che diciamo si mettano a disposizione questi luoghi per fornire un servizio di formazione degli studenti. Qui non parliamo di stage o di altre cose che si collocano dopo la scuola, qui proprio fa parte della formazione scolastica e sono imprenditori, sono realtà produttive che fanno un grande servizio, che fanno un servizio per la società prendendosi anche il rischio perché quello che è successo questa tragedia evidentemente è una cosa che in qualche modo si riverbererà anche proprio sull'azienda quindi prendendosi grandi rischi a fronte sostanzialmente di nessun beneficio se non di quello di formare gli studenti. Allora io penso che come dire giustamente si dovranno vedere le responsabilità giustamente sicuramente anche il sistema duale, è un sistema che in qualche modo va, deve essere come dire migliorato e secondo me anche potenziato però attenzione a non strumentalizzare come ho letto da alcuni queste situazioni come dire per andare nella direzione contraria. Spostiamoci ora a Trieste perché come riferisce ancora l'Ansa la morte di Liliana Resinovic potrebbe risalire al giorno in cui la 63enne triestina è scomparsa dalla sua abitazione vale a dire il 14 dicembre. Le condizioni in cui è stato ritrovato il suo corpo il 5 gennaio tra la vegetazione del parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni non distante da Rione dove la donna viveva con il marito sarebbero infatti compatibili con una morte avvenuta diversi giorni prima. Sul caso la procura di Trieste ha aperto un fascicolo per sequestro di persona. L'attacco e l'autopsia non avrebbero sciolto tutti i nodi sulle cause precise della morte avvenuta per scomperso cardiaco. Gli inquirenti non escludono, lo ricorda ancora l'Ansa, l'ipotesi suicidio. Le indagini proseguono a tutto campo in attesa degli esiti degli esami tossicologici. Domani in mattinata nel cimitero di Sant'Anna si terranno i funerali della donna in forma privata come richiesto dalla famiglia. Una funzione breve, poi avrà luogo la sepoltura. A sei anni esatti dalla scomparsa al Cairo di Giulio Regeni, domani invece Fiumicello rinnoverà la richiesta di verità e giustizia per il giovane ricercatore friulano. Nel corso dell'evento Pensieri, Parola e Musica per Giulio, con i genitori Paola e Claudio Regeni e l'avvocato Alessandra Ballerini. Prevista la partecipazione tra gli altri di Pif, Luciana Litizzetto, Stefano Accorsi, Ascanio Celestini, Gianni Cuperlo, Vinicio Caposela, l'evento in programma nella Sala Bison dalle 17.30 sarà trasmesso anche via streaming. Stamani intanto, come ha reso noto Palazzo Chigi, il premier Mario Draghi e il ministro della giustizia Marta Cartabia hanno incontrato Paola e Claudio Regeni e anche l'avvocato Alessandra Ballerini in videoconferenza. Al centro del colloquio, come reggiamo in questa nota stampa, le possibili iniziative per dare seguito nel modo più efficace all'ordinanza del GUP di Roma. Veniamo ora allo sport all'Udinese. Dopo il pareggio di Genova arriva una sosta providenziale per l'Udinese che potrà recuperare energie e riordinare le idee dopo un mese di gennaio condizionato dal Covid e anche dalle difficoltà esterne. Intanto si spera di poter rivedere Pereira contro il Torino, partita nella quale mancherà Deulofeu per squalifica. L'Udinese ha chiuso un mese di gennaio difficile e faticoso a tratti anche surreale con un pareggio ambivalente in quel di Genova. Il punto è stato buono per muovere la classifica e interrompere la striscia di tre sconfitte di fila, vero, ma ha anche palesato problemi in fase di realizzazione con zero tiri in porta scoccati verso Sirigu. La condizione generale della squadra afflitta dal Covid in questo mese, tra reinvie, ricorse e allenamenti mai al completo, non è sembrata di certo delle migliori e per questo la sosta può davvero considerarsi una sorta di benedizione per una squadra che ha bisogno di ritrovare elementi importanti, energie, oltre a riordinare le idee. Le due settimane di soli allenamenti saranno manna dal cielo per Cioffi e il suo staff tecnico che potrà concentrarsi anche sull'integrazione dei due nuovi arrivati, vale a dire i difensori Pablo Marì e Filippo Benkovic, dalle ottime potenzialità ma che necessitano di calarsi al meglio nella nuova realtà del campionato di Serie A. Lo stop per le nazionali priverà l'allenatore bianconero del solo Molina, partito per rispondere alla convocazione dell'Argentina e quindi sarà l'occasione perfetta per lavorare su alcuni concetti di gioco che, complici le fatiche di Coppa contro la Lazio, sono sembrati smarriti sul prato verde dello stadio Luigi Ferraris di Genova. Nel frattempo verranno anche prese le decisioni in relazione alle partite non disputate contro Fiorentina, Salernitana, con il giudice sportivo che ha intanto sancito il 3-0 per l'Udinese, oltre che sulla partita contro l'Atalanta. Insomma, al rientro dalla sosta potrebbero essere cambiate tante carte in tavola e l'Udinese dovrà farsi trovare pronta al ritorno a una partita in casa dopo praticamente quasi un mese in trasferta. Chissà che una di queste novità non possa essere Pereira, l'Argentino fermo dalla gara di andata contro il Genoa ha fame di campo e sta lavorando per provare a esserci contro i Granata, almeno per una convocazione. La speranza resta e la sua qualità servirebbe particolarmente vista la certa assenza per squalifica di Deolofeo, il quale dovrebbe essere rimpiazzato da un success che è stato tra i migliori nelle ultime uscite, sebbene sempre parziali. Come sempre prima di salutarci andiamo a scorrere assieme anche le prime pagine arrivate finora in redazione. Iniziamo con il libero. Governo cercasi per sbloccare il Quilinale. Draghi resta il principale candidato per il Colle. Se andasse però servirebbe un nuovo premier e un rimpasto. Super Mario media con Salvini eletta ma Matteo frena e prepara una rosa di nomi. La verità, il Green Pass diventa eterno, difficile riconquistare i diritti perduti, c'è il rischio degli esodati della terza dose e il Governo pensa di togliere la scadenza al documento. Ma non è una bella notizia, significa che non ce ne ribereremo più, scrive la verità. Come conferma l'Unione Europea raccoglierà tutti i nostri dati e non solo sanitari. Il giornale Draghi si sporca le mari, Quirinale fumata nera. Finalmente il premio scopre le carte e consultazioni per salire al Colle. Ma Super Mario non convince i partiti e rispunta l'ipotesi Mattarella bis. Prima chiama da cabaret, 672 bianche, voti ad Amadeus, Angela e Zoff. Continuiamo con il foglio. Il Quirinale ora è un referendum su Draghi. Chi può dire no al Premier? Vetti che cadono, leader che dialogano la politica alla prova della parentesi. Con questa prima pagina si conclude questa nostra edizione del Telegiornale. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una buona notte, ma vi salutiamo anche con Accade Oggi. Il 24 gennaio 1982 l'Udinese riempie una pagina gloriosa della sua storia oltracentenaria. Conquista a Milano, a San Siro, una vittoria importantissima contro il Milan. Importantissima perché è la prima affermazione in trasferta contro i rossoneri della squadra bianconera a livello di Serie A. 1-0 per l'Udinese, grande protagonista, il miglior giocatore in campo, Franco Causio, e lui che al minuto numero 41 segna un grandissimo gol. L'azione parte proprio dal Barone che è il capitano di quell'Udinese. Causio a centrocampo lancia sulla destra, Muraro, questi affonda il colpo e dalla linea dell'out crossa al centro. Il portiere del Milan che è Piotti smanaccia, respinge come può, il pallone termina al limite dell'area e Causio come un furetto dopo una rincorsa incredibile anticipa il difensore e in controbalzo, in sacca, trovando l'angolino basso più vicino. Un gol molto bello. A quel punto il Milan è ormai K.O., non ha più la forza di reagire, ma va anche sottolineato che il successo dei bianconeri è più che meritato perché quel giorno, il 24 gennaio 1982, l'Udinese si rivelò più forte del Milan. Andò in campo per la squadra bianconera Borin in porta, Galparoli, Tesser, Gerolin, Cattaneo e Orlando Pereira, Causio, Bacchin, Miano, sostituito poi da De Giorgis, Orazzi e Muraro. Giorgis, Orazzi e Muraro.